Santander, altra località balneare meno rinomata, cittadina dell'omonimo banco. Adesso vi faccio vedere, questa è la residenza della famiglia Botin, famiglia storica proprietaria del banco di Santander, questo qua marrone, quello sopra un hotel a 5 stelle. Santander, residenza estiva, della regina che non mi ricordo come si chiama, mica si può sapere tutto, sempre Santander, palazzo della Maddalena, residenza estiva, sull'Atlantico, sul mar Cantabrico. Marco. Voi avete ansia sta cosa? Anche a me, vai. Leone milanesi da rivolta d'acqua. Sembra. Leone marini. La Baia di Santander. La Baia di Santander. Santiana del Mar, sembra Tallinn, Castigliana del Mar, a piazza Plaza Mayor, Santiana del Mar Ramm, Santiana del Mar, con il spettacolino della tipa collegiata romanica di Santiana del Mar Ancora il palazzo di Gaudi, a Comiglias. Ecco il proprietario della casa, un figaccione ricco, pieno di soldi, tipo un Lapo Elkan dell'epoca. Oviedo stasera, martedì 4 agosto. Compagni di viaggio, salutate. Sonia, saluta. Oviedo è il boulevard della sidra, qua si beve il sidro. Come versano il sidro a Oviedo. Grazie. 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 Grazie.